Solo 3 ingredienti per l'antipasto più sfizioso di sempre Versate la carne di due salsicce grandi in una ciotola Aggiungete 200 g di stracchino e amalgamate per bene Prendete del pane fresco e con un po' di magia tagliate la fette Condite ogni fetta con un cucchiaio di composto e infornate a 190 gradi per 10 minuti o finché non saranno ben dorate Voilà! Pronte! Finiranno in un batter d'occhio Finiranno in un batter d'occhio Finiranno in un batter d'occhio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti